Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo tutorial dedicato a chi debutta e inizia con rfactor 2 e che si chiede come fare per installare le mod che siano a esse tracciati o circuiti allora perché ho deciso di fare questo tutorial perché ho dovuto fare tanta assistenza e aiutare tante persone e così almeno chi debutta e capita sul canale può vedere come si fa ad installare appunto queste mod allora per installare mod ci sono fondamentalmente tre tipologie diciamo di installazione la prima è quella classica tramite il workshop di steam quindi basta andare su appunto il workshop di steam basta andare comunità workshop qui nella pagina basta scrivere nella barra di ricerca rfactor 2 selezionare e ci si ritrova appunto con tutti i diciamo i contenuti che sono installabili basta mettere che so i più sottoscritti oppure che ne so gli oggetti più popolari insomma fate una ricerca e se capitate su qualcosa che vi interessa ci cliccate su fate sottoscrivi adesso non lo faccio perché non mi interessa questo circuito e vi ritroverete poi nel download lo steam workshop che si auto aggiornerà che auto aggiornerà il vostro rfactor 2 e vi ritroverete il contenuto un'altra metodologia è quella di passare da un download magari da un sito o un amico che vi passa appunto la mod e nello specifico io ho scaricato due circuiti e due auto e le andiamo subito a scompattare gli chiedo di estrarle ognuno nella propria cartella e capirete subito perché ho preso due auto e due circuiti così vi spiego quali sono le differenze allora qui abbiamo vallelunga e aida aida che si trova nel formato rfcmp che diciamo che il formato compresso che riconosce rfactor 2 e vallelunga in realtà è già scompattato vedete questi file mass e mft sono praticamente la cartella scompattata già del tracciato come se fosse installato stesso discorso per quanto riguarda le auto in questo caso l'audit tk del 2015 formato rfcmp e l'aston martin vanta gt3 2019 sotto forma di già installato e in questo caso abbiamo addirittura due versioni allora partiamo subito dai file rcfmp rfcmp scusate quindi prendiamo questo qui del tracciato e andiamo sulla cartella steam steam apps common rfactor 2 package lo installiamo qui lo installiamo qui mi dice di sovrascriverlo perché ho già fatto la procedura torniamo a questo punto anche sull'audit t sport cap prendiamo anche qui il file torniamo sempre nella cartella package e lo incolliamo anche qui mi dice di sovrascriverlo perché ho una procedura che avevo già fatto e a questo punto andiamo su rfactor 2 e ci dirigiamo verso l'icona in alta a sinistra lo scatolone che vuol dire content c'è contenuti e tengo a precisare questa è la versione di rfactor 2 la 11 17 come vedete qui current build 11 17 quindi vado qui sul package clicco su install e se salgo su ma li mette nell'ordine quelli che sono installati non installati eccolo qua e come vedete c'è aida e audi tt cap e qui mi dice che l'audit tt cap è un veicolo la versione la 1.0 è presente il package il file package e per aida mi dice versione 0.2 anche qui mi dice che c'era il package file e il tipo di contenuto cioè location a questo punto ci clicco sopra faccio install e mi ha installato l'aida tecnicamente avrei potuto selezionare entrambi basta cliccare e andare shift con i tasti direzionali sopra e sotto vedete che me li seleziona però qua ho deciso di farlo a una alla volta stessa cosa per audi tt cap 2015 quindi questa l'installazione quindi abbiamo visto workshop la sottoscrizione ovviamente su workshop se volete disinstallare basta togliere la sottoscrizione qui basta mettere il file pack package nella cartella come abbiamo visto r factor 2 package qui dentro e a questo punto se volessi disinstallarlo molto semplicemente vado a ricercare ad esempio aida che qui è in basso a sinistra vedete c'è scritto un install quindi potrei fare un install e addirittura anche cancellare il file package se adesso vado su single player mi ritroverò sia aida che la audi tt cap ma lo verificheremo dopo a questo punto torniamo sui nostri file cioè valle lunga quelli che sono già scompattati controlliamo che ci siano i file che ci sia una versione e che la cartella principale del tracciato non sia inclusa in un'altra sottocartella proprio come in questo caso se io clicco su valle lunga vedete c'è valle lunga di nuovo quindi devo a partire da questo momento in poi c'è da valle lunga e che se clicco dentro ci sia la versione posso andare a tagliare e a copiare direttamente a questo punto non su package ma su install e quindi vado su install e andrò a copiare il tutto in location faccio incolla qui mi dice di sovrascrivere perché c'ho già il circuito installato a voi non ve lo dirà e a questo punto torniamo indietro anche a prendere la nostra aston martin vantaggio gt3 eccola qua anche qui stesso controllo non ci deve clicco sopra vedo che ci sono le due versioni taglierò a questo punto quella subito sopra e andrò a installarla questa volta in vehicles la incollo amici attenzione nel file destinazione è già presente il file sovrascrivi per me per voi per un nuovo contenuto non vi farà sovrascrivere quindi abbiamo visto queste tre modalità di installazione andiamo a verificare che effettivamente sono state installate quindi lasciamo partire il gioco ci vediamo nel menu principale di refactor 2 ma ragazzi siamo sul menu quindi principale di refactor 2 prima cosa da fare ricordatevi sempre di andare sulle serie e selezionare tutte piste auto e fare accetta perché a volte si auto seleziona una certa serie in base a quello che avete fatto se siete entrati in un server quindi nell'eventualità assicuratevi che oltre a carse sia selezionato altrimenti non trovate i contenuti avete precedentemente precedentemente installato noi andiamo su pista andiamo a cercare aida che eccola qua quindi installata e ovviamente valle lunga che troviamo qui in basso eccola qua valle lunga classic club ed extended allo stesso modo andiamo a vedere le auto quindi veicoli andiamo su aston martin eccolo qua vantage gt3 2019 e poi audi tt sport cup 2015 ecco qua ragazzi quindi come si installano le mod auto e tracciati su refactor 2 quindi vi ripeto dallo steam workshop con la sottoscrizione degli oggetti che vi interessano oppure copiando le cartelle già scompattate sotto refactor 2 installed vehicle per le auto oppure sotto refactor 2 installed location per i tracciati e per quanto riguarda i pacchetti rf mcp sotto la cartella refactor 2 package poi dal menu launcher di refactor 2 fare l'installazione o la disinstallazione come preferite ragazzi il tutorial è finito qui spero che vi sia stato di vostro credimento e soprattutto utile per tutti quelli che debuttano su refactor 2 vi ringrazio per avermi seguito come al solito noi ci vediamo prestissimo ve lo dico subito abbiamo lanciato anche un mini campionato con le rs01 mod ufficiale di sim drivers mancano pochissimi posti non esitate a prendere informazioni sulle iscrizioni e modalità per partecipare sul nostro sito www.sim drivers.eu noi come al solito ci vediamo prestissimo non esitate a lasciare un commento se avete domande perplessità o altre richieste un pollice in su se questo tutorial vi è piaciuto direi che da fabrice è tutto e ricordatevi di iscrivervi al canale e perché no attivare anche la campanellina per essere notificati ogni qual volta pubblico un video ci vediamo presto ciao ragazzi